Aspettatemi qua, sto venendo. Che vorrei dire, Ina? Sembra che ci voglia suggerire di far sparire tutti gli operatori. Ma tu ci credi? Non lo so, si può provare, ma dobbiamo essere tutti quanti a volerlo. Facciamo così. Domani, tutti, allo stesso orario, chiudiamo gli occhi e pensiamo di farli scomparire. Bambini, prendete le vostre cose, il bambino è pronto per accompagnarvi a casa. Veloci! Però scendo, diciamolo agli altri. Guarda, è tardi, muoviamoci. Guarda, è tardi, muoviamoci. Lavoriamo! Potremmo organizzare un bel torneo di calcio. Ma è un'ottima idea. Ma ti ricordi quanto si sono divertiti i bambini negli anni precedenti? Però il calcio solo no, perché magari non coinvolge tutti. Poi è la palla a volo. La palla a volo, qualche gita, qualche gita conosciamo Palermo, vediamo un po' questa Palermo bellissima, un po' di cultura male. Non fa. Allora, leggiamo. Buongiorno, ho fatto il letturo. Tu che fai? Dormi? Buongiorno. Dai, leggi. Buongiorno. Brava! Vai! Buongiorno. Buongiorno. Brava. Buongiorno. Buongiorno. Brava. Leggi. La voce, la voce, buongiorno. Forza. Ma guarda che è un piacere veramente studiare con voi, è un piacere Samu, a tre ore che leggi sempre la stessa pagina, me lo puoi ripetere? Che cosa hai? Un problema? Sì Che problema hai? Di che ho un mal di testa Oh, non hai voglia di studiare No, ho un mal di testa Non hai voglia di studiare? Ma allora, che succede? Amore, c'è tanto! Ha funzionato! È sparita davvero! Evviva! Siamo liberi! Io anche non ho potuto succedere davvero Ma che fa la Tori Cosa è successo? A noi potete sono scolpersi anche loro Sì, andiamo!